Aprendo il pannello di controllo, notiamo le sezioni indicate in alto a sinistra. La sezione Input rappresenta tutti gli ingressi audio analogici e digitali della scheda audio. Qui sono presenti i controlli che manipolano i segnali in ingresso, come ad esempio il Trim. La sezione successiva è quella relativa ai Mixes. Qui trovano posto i classici controlli presenti sui mixer analogici, come i Fader, i Pampot e gli indicatori di livello. Gli ingressi della scheda audio passano dalla sezione Input e arrivano direttamente nei canali di questa sezione Mixes. Parliamo di Mix al plurale, Mixes, in quanto non abbiamo un unico mix, ma la possibilità di creare fino ad 8 mix stereofonici indipendenti. Una volta messo a punto uno specifico mix, questo va indirizzato da qualche parte. Ogni mix può essere mandato verso una qualsiasi coppia di uscite stereofoniche. Il tab Output presenta in una singola schermata tutti i controlli relativi alle uscite. Ora che abbiamo un'idea più chiara sul flusso del segnale all'interno delle varie sezioni, andiamo più in dettaglio nelle varie funzionalità. Torniamo alla sezione Input e analizziamo nel dettaglio un singolo canale. Quando il pulsante Phase è acceso, il segnale in ingresso viene invertito di fase. Questo è utile per realineare eventuali cancellazioni di fase tra sorgenti sonore diverse. A questo punto illustriamo alcuni comandi generali di questo software. Se si desidera applicare un'azione a tutti i canali, tenere premuto il tasto Shift mentre si compie l'operazione. Per esempio, posso invertire la fase di tutti i canali in un colpo solo. Il tasto Control, Mela su Apple, permette invece di selezionare più canali diversi. Il potenziometro Trim controlla il gain sul segnale in ingresso e il suo funzionamento dipende dal tipo di segnale applicato. Nel caso di ingresso microfonico, il Trim permette un guadagno molto maggiore rispetto ad un ingresso di linea. Per quest'ultimo, il gain è sia positivo che negativo, in modo da adattarsi ad una maggiore quantità di possibili sorgenti sonore. Gli ingressi digitali hanno una minore escursione per il gain. Dopo aver regolato il gain e la fase, possiamo manipolare ulteriormente il segnale, per esempio con un equalizzatore. Sono disponibili 4 equalizzatori parametrici, attivabili o meno a seconda delle necessità. La potenza di calcolo necessaria per il mixing, l'equalizzazione, gli effetti dinamici e i riverberi pesa sul DSP della scheda e non sulla CPU del computer, permettendo tra l'altro una latenza sull'audio virtualmente nulla. Osservando l'interfaccia del software, troviamo un grafico di equalizzazione su ogni canale con i relativi potenziometri. Ogni potenziometro ha un colore in codice che individua la banda di frequenza su cui agisce. La prima cosa da fare è attivare l'equalizzatore cliccando sull'apposito bottone di attivazione. Questa operazione ha diverse conseguenze. Primo, dà il focus al canale. Secondo, mostra altri parametri applicati a questo canale. In particolare il tab EQ nella sezione master viene attivato. Terzo, il bottone di attivazione funziona da switch on-off e permette di confrontare agevolmente la versione originale del segnale con la sua versione equalizzata. L'equalizzatore è di tipo completamente parametrico, a 5 bande, incluse due bande di tipo shelving. Inoltre, sono disponibili due filtri passa alto e passa basso a pendenza variabile. Una pendenza di 6 dB per ottava produce un'attenuazione molto più graduale rispetto ad una pendenza di 36 dB per ottava. Quando un canale ha il focus, si può utilizzare il display grande e i potenziometri presenti nella sezione master. Tuttavia, le bande selezionate sono modificabili direttamente anche all'interno del canale. Il tab mix è quello simile ad un mixer canonico. Si può lavorare con i controlli di base, father, pan, solo, mute. Nella sezione input vediamo che possiamo linkare due canali mono, creando così un singolo canale stereo. Tornando alla sezione mixes, vediamo che il pan ora consente due regolazioni diverse. Il width collassa gradualmente l'immagine stereo in mono. Il balance controlla il bilanciamento sui due canali stereo in questione. Se uno dei canali viene messo in solo, la luce rossa del solo in alto lampeggerà, per ricordarci che c'è uno dei canali, magari non in vista, in modalità solo. Ora applichiamo un processore di dinamica ad una coppia di uscite. Ricordiamo che la stessa operazione è applicabile agli ingressi. Clicchiamo sul bottone di attivazione dei processori dinamici. La coppia di uscite acquisisce il focus e nella master section compare la sezione relativa alla dinamica. Vediamo che ci sono due tipi di processore dinamico. Anche se la sezione dinamica è attiva, si rende necessario attivare anche il singolo processore desiderato. Il compressore presenta i controlli tipici della compressione, soglia, rapporto di compressione, attacco, rilascio e guadagno d'ingresso. Il leveler, livellatore, simula un compressore di tipo LA-2A. Ambe due questi processori possono essere applicati ad un ingresso o un'uscita. Questo permette di usare per esempio un compressore ed un limiter in serie. Nella sezione monitor troviamo i bottoni talk, parla e listen, ascolta. Se vogliamo attivare i talkback e i listenback occorre prima configurare le sorgenti d'ingresso. Per fare questo selezionare l'ingresso desiderato ed attivare il focus. Successivamente, nella master section relativa al canale, attivare la sorgente come talk o come listen. Dopodiché si attivano i singoli talk e listen nelle uscite desiderate. Una volta configurato il tutto, possiamo premere i tasti talk e listen nella sezione monitor per attivare i dialoghi tra sala regia e sala ripresa. È possibile collegare dei monitor amplificati direttamente alla scheda audio e controllarne il volume con il potenziometro monitor level. Il default delle uscite è stereofonico, ma è possibile controllare uscite multiple con lo stesso potenziometro. I preset disponibili, quad, 5.1, 7.1, coprono la maggior parte delle necessità, ma è possibile realizzare configurazioni autonome attivando le singole uscite con il bottone monitor. Mentre gli equalizzatori e i processori dinamici possono essere applicati singolarmente ad ogni ingresso e ogni uscita, è disponibile una sola unità di riverbero. È possibile inviare un segnale audio al riverbero dagli ingressi, dal mix e dalle uscite. Supponiamo di voler inviare al riverbero un ingresso specifico e di aggiungere il ritorno dal riverbero ad uno specifico mix. Clicchiamo la sezione input e sul canale desiderato alziamo il potenziometro verb send. Successivamente entriamo nella sezione mixes, scegliamo il mix desiderato e alziamo il potenziometro reverb return presente sul master fader. Assicurarsi che lo split point sia selezionato su mixes per abilitare il ritorno del riverbero sulla sezione mixes. Se vogliamo il riverbero sull'intero mix, alziamo il potenziometro send e selezioniamo l'output come split point. Quindi nella sezione output alziamo il potenziometro verb return sull'uscita desiderata. La sezione meters mostra l'attività dei segnali sugli ingressi, i mix bus e le uscite. Vi sono sottili differenze tra la visualizzazione di tipo pre e quella di tipo post che riguardano la capacità della scheda di gestire 12 dB in più sugli ingressi microfonici. Le modifiche effettuate restano memorizzate all'interno della scheda, anche dopo che questa viene staccata dal computer. Tutti i settaggi sono comunque modificabili dal pannello frontale della scheda audio. È possibile salvare le proprie configurazioni su file. Per creare una nuova configurazione, cliccare su Create New dal menu Configurations e salvare.